La benedizione degli animali che si invitano a inottrare i nostri percorsi a Gesù, a Gesù nostro Salvatore, a Dio nostro Signore, colui che per noi dà la vita. Quindi questa benedizione, diciamo, conclude le feste del Natale e inizia le feste della gioia, le gioie del Carnevale, la famosa benedizione degli animali. Come si chiama? Peti, sia benedetto dal Signore, la tua famiglia. Tutti gli animali del mondo siano rispettati, amati, meno macelli e più accoglienze. Mangiamo meno carne, magari se è possibile, scusate l'intervento, non la diremo, più verdure che fa bene al fegato e al pormone, acqua fresca e verdure, meno animali, meno animali. Animali sono per noi, per noi, perché sia lo Signore di compagnia, sia lo benedetto del Signore. Ci sono salute nei nostri cuori, nelle nostre case. Ecco, poi, raccomando, come li hanno, a presto, facciamogli venire bene anche ai cittadini, questi animali, cercando magari, se è possibile, di girare con la paletta, con la paletta, con il sacchiello, quando giriamo per le strade. Così almeno tutti amano gli animali, anche che qui non ce l'hanno. Oggi è volata in cielo e serve per la pace nel mondo, quindi abbiamo contribuito con questa benedizione, per tutte le preghiere che ne facciamo, contribuiamo a costruire un'energia nuova di pace e di benessere nel mondo intero. Non si è fermata qui questa benedizione, è andata oltre e oltre questa terra, è andata a finire nell'universo. Quindi ringraziamo tutti quanti per aver contribuito questa energia di benedizione per il mondo. Aspettiamo qualche romanista che sta arrivando dopo la vittoria. E' vero, è vero, è vero quello lì, è vero. E' una chimera che me l'ha passata. Osservate che bellissimi animali, grazie per il vino. Concorro per tutti, piccoli e grandi. I animali sono generosi, è sempre più quello che danno loro a noi che noi a noi. Gli animali è più quello che ci danno, che quello che noi diamo a loro. E vi offrono il concorso. Là, chi vuole, c'è una bella... E vi offrono la tua forza e la tua benedizione. Olimali ci allontano da te. Ecco qua, ecco qua. Brava. Si è benedetto dal Signore. Paolo, Fido, Spirito, Santia. Vittorio, buongiorno. Grazie. Vittorio. Vittorio. No, perché stiamo al chino di acqua. Vittorio. 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 Vittoria. Vittorio. Vittorio. Non parlare con me Then darling I can't see me In your eyes I hold you near But you're so far away And it's losing you I can't believe To watch you leave And let this feeling down You alone are the living thing That keeps me alive And tomorrow If I'm here without your love You know I can't survive Only my life can raise you High above it all Don't throw it all away I love, I love Don't throw it all away I love Don't throw it all away I love, I love Don't throw it all away I love We can take the darkness And make it full of light But let your love But let your love flow back to me How can you leave And let this feeling die? And let this feeling die This happy room would be a lovely place When you are gone And I won't even have your shoulder Above the crying all No other woman's love could be as true I'm begging you Don't throw it all away I love, I love Don't throw it all away I love Don't throw it all away I love, I love But let's call it all Province Don't take the oil Ponies What italds Are Big So We're going to masuk This wish To mess We love That Il nostro corso www.mesmerism.info Diciamo che la natura ha benedetto noi, siamo stati benedetti dalla natura di Dio, abbiamo fatto un punto luce e un punto energia per il mondo, per la pace, per la concordia di tutti gli uomini. Gli animali sono contenti quando noi siamo insieme, quando noi ci vogliamo bere e loro contribuiscono alla nostra pace, gli animali sono doni che Dio dà a ciascuno di noi. Teniamoli vicini questi meravigliosi amici dell'uomo, piccoli e grandi, a tutti buona giornata e Sant'Antonio Abate prenda questa preghiera, la porti su il cielo e per il cielo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!